Siamo ormai alle porte della stagione estiva e ancora molti esercenti sono sprovvisti delle autorizzazioni per il suolo pubblico. Abbiamo intervistato il presidente della ConfCommercio Algherese Massimo Cadedu che ha parlato anche di intrattenimento notturno. Il gruppo consigliare del PD torna sul consiglio comunale di lunedì e stigmatizza l'atteggiamento del sindaco in aula, situazione vicina al collasso e clima di totale dispregio delle istituzioni. I prossimi 8 e 9 maggio Alghero e Sassari ospiteranno un prestigioso convegno di catalanistica, intanto ieri l'Omnium Cultural ha concluso l'anno della scuola di Algherese. Ben ritrovati con il telegiornale di Alghero su Catalan TV, telegiornale che apriamo parlando di suolo pubblico perché il mese di maggio è iniziato, la stagione estiva sta per iniziare ma ancora molti esercenti sono sprovvisti delle autorizzazioni. Ne parliamo con il presidente della ConfCommercio di Alghero Massimo Cadedu con il quale abbiamo affrontato anche il tema dell'intrattenimento notturno. Siamo con Massimo Cadedu, presidente della ConfCommercio di Alghero. Da lei volevamo sapere a che punto era la situazione riguardante le autorizzazioni per il suolo pubblico? Sappiamo che in passato ci sono stati dei problemi, ora a che punto siamo? Siamo sicuramente in ritardo, io credo che ad oggi questa è la situazione. Le pratiche sono state più o meno 130 tutte istruite che ovviamente non vuol dire rilasciate e sono in fase in sostanza di lavorazione. Alcune sono ferme sul tavolo del comando della Polizia municipale per verificare la congruità col codice della strada. Alcune sono ferme perché sono soggette a richiesta di integrazione da parte degli esercenti, alcune sono ferme in TOSAP perché sono pronte e bisogna effettuare il pagamento da parte degli esercenti. Una piccola parte, minima, sono state rilasciate e da quello che ci risulta una piccolissima parte sono state in sostanza ritenute inammissibili. Questo è il quadro, non ho dei numeri certi, crediamo che questo ritardo, speriamo, sia semplicemente la conseguenza del fatto che un regolamento nuovo ovviamente ha comportato e può comportare delle complicazioni in sostanza e dei ritardi. Crediamo anche che la rivoluzione della microstruttura abbia in sostanza creato qualche complicazione in più, ma l'auspicio è che entro fine maggio l'iter intero sia concluso. anche perché ovviamente gli operatori aspettano, la stagione è già iniziata e non ci vorremmo trovare a giugno in una simile situazione. La stagione che sta per iniziare è tornata alla ribalta anche un altro problema che riguarda l'intrattenimento notturno. Da poco la Questura ha disposto dei controlli in alcuni locali, è stato disposto allo stop, potremmo chiamarlo così, alla musica a una certa ora della notte. Cercheretti di lavorare anche su questo fronte con l'amministrazione? La Questura ovviamente fa i controlli sulla base di un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco Stefano Lubrano, relativa in sostanza allo scorso anno, quindi fa ovviamente il suo dovere. Agliero manca di un piano di zonizzazione acustica che è lo strumento che ci consentirebbe di reinventare in sostanza un'ordinanza, di modificarla, andare a stabilire che esistono porzioni del territorio, quindi alcune zone dove si può fare musica rispetto ad altre. mi viene in mente Lugomare Dante che scarica a mare il suono eventualmente, perché comunque si è in mare davanti. Questo è un esempio, ma io penso anche altre zone, la città, il Lido e quant'altro. Però se non c'è lo strumento di programmazione che va legittimale a questo viene un po' male andare a ritoccare così in maniera secca un'ordinanza. Abbiamo stimolato l'amministrazione per far sì che al più presto il piano di zonizzazione acustica pro di Naule. Vorremmo verificare prima, concertare prima. Una partita importante, questa è delicata. Agliero fa turismo, quindi fa intrattenimento. Siamo fiduciosi e speriamo quanto prima l'amministrazione sottoponga alla nostra attenzione la bozza di piano. Staremo a vedere cosa succederà, speriamo ovviamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, a maggior ragione del fatto che la stagione estiva è alle porte. Il gruppo consigliare del PD torna sulla seduta di lunedì della quale sono state approvate le modifiche al regolamento sui poi, che in cui non sono mancati anche i momenti di tensione, come abbiamo anche visto nel nostro telegiornale. A tal proposito, in una nota viene stigmatizzato il comportamento del sindaco. Assistiamo con sconcerto e preoccupazione ad una gestione di un'unica degna dei peggiori bar di Caracas. Si apre così la nota del gruppo consigliare del Partito Democratico, firma del suo capogruppo Mimo Pirisi. Il sindaco manifesta ogni giorno che passa un nervosismo sempre più crescente e intollerabile, sintomatico di chi sta perdendo il controllo e la serenità indispensabili per guidare una città con tanti problemi come Alghero, si legge nel documento. L'opposizione, specialmente quella responsabile, svolge e ha svolto sin dall'inizio della legislatura il suo ruolo puntuale e preciso e la critica costruttiva e propositiva non può essere utilizzata dal sindaco per dare sfogo alla sua inadeguatezza a reggere il confronto con le altre forze politiche. Soffermandosi sui POIC, secondo il PD invece, si è consumata un'altra triste pagina della politica di questa amministrazione, incapace di attribuire un ruolo di sviluppo economico e occupazionale alle imprese della città. I 15.000 euro previsti per contribuire agli sgravi fiscali delle imprese algheresi sono un segnale che offende chi con fatica eroica resiste sul mercato. La maggioranza, scrive ancora Perisi, non viene coinvolta se non marginalmente e saltuariamente nelle decisioni e nella programmazione e il sindaco si ostina a governare questi processi senza coinvolgere il consiglio comunale o le commissioni se non all'ultimo momento o nella fase di votazione. Il fatto più grave, si legge ancora, è che qualche consigliere comunale lamenti una fuga di notizie da parte dei dirigenti e funzionari attribuendo agli stessi responsabilità e incapacità nel gestire la macchina amministrativa e rapporti con il sindaco. Auspichiamo, conclude il capogruppo del PD, che il primo cittadino riprenda al più presso il controllo della situazione oramai vicino al collasso in un clima di totale dispregio delle istituzioni che gli stesso rappresenta. E a proposito di POIC da Sant'Anna, fanno sapere che tutti gli imprenditori con sede ad Alghero nei settori manufatturiero, del commercio all'ingrosso e al dettaglio e servizi di alloggio e ristorazione potranno partecipare al bando a Sportello. Di minente pubblicazione dalla regione Sardegna e Sfirs, rivolto ai soli comuni con più di 20.000 abitanti che hanno manifestato interesse. Si tratta però di un bando a Sportello per presentazione delle domande, vale cioè il principio dell'ordine di arrivo, fatto questo che obbliga tutte le imprese interessate a farsi trovare pronte nel momento della pubblicazione. Sono previsti finanziamenti alle singole imprese da 15 a 50.000 euro per innovare o per nuove attività, rimborsabili in 60 mesi a tasso zero, ma anche supporto e ulteriori agevolazioni fiscali dall'amministrazione comunale con il pacchetto di sgravi fiscali a favore del comparto produttivo. I beneficiari avranno l'onere di un rimborso mensile con rate costanti e posticipate a favore della Sfirs, l'ente strumentale della regione Sardegna che operativamente gestisce i POIC. Insieme al Comune di Alghero, presso l'assessorato allo sviluppo economico e all'ufficio programmazione, sono numerose le associazioni di categoria che si occupano di fornire dettagliate informazioni alle imprese singole o associate interessate. Ulteriori dettagli si possono trovare comunque nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune. E' sempre una notizia dal Comune, il dirigente dei servizi sociali, dottor Salvatore Mula, si informa che sono in pagamento i contributi all'integrazione dei canoni di locazione annualità 2014. I beneficiari inseriti nella graduatoria che riscuotono il contributo in contanti, muniti di valido documento di identità e codice fiscale, dovranno recarsi presso gli sportelli del Banco di Sardegna di Alghero, dando indicazione dei mandati numeri 3.446, 3.447, 3.448 e 3.449 del 22 aprile 2015 e i numeri 3.921 e 3.922 del 28 aprile, sempre ovviamente del 2015. E' una delegazione del Comitato Rinascita della Bonifica, con in testa il presidente Dario De Rio ha incontrato mercoledì pomeriggio l'assessore regionale all'agricoltura Elisabetta Falchi e il suo staff a margine dell'evento Sardegna, isola della qualità della vita, cibi per la salute della terra, dei centenari tenutesi a Milano per parlare delle criticità delle borgate algheresi. Sentiamo il resoconto con le dichiarazioni del presidente De Rio. Dopo l'incontro che abbiamo avuto ad Alghero la settimana scorsa con il presidente Pigliaru, spiega il presidente del Comitato di Rinascita della Bonifica, De Rio, era per noi importante informare anche l'assessore regionale all'agricoltura in merito all'abbandono che sono costretti a subire le borgate di Alghero. Oggi tutta la Sardegna agricola è in fermento per l'arrivo del nuovo piano di sviluppo rurale. Stanno per fiovere, scrive, sull'isola, centinaia di milioni di euro. La bonifica di Alghero non è affatto pronta, ma destinata un'altra volta ad avere un ruolo marginale nella spesa di quei fondi. Fondi con i quali si potrebbero sistemare strade, chiese, scuole, saloni e ridare slancio all'agricoltura. Nei recenti incontri a regia regionale tenutisi a Bonassai e propedeutici per il PSR erano presenti molti imprenditori agricoli e aspiranti imprenditori provenienti dalla bonifica di Alghero. Cittadini desiderosi di investire in agricoltura, ma ai quali sarà negato un'altra volta questa possibilità se l'amministrazione comunale non deciderà finalmente di impegnarsi con determinazione per liberare subito l'agro dagli attuali vincoli. Il PUC non è la strada giusta in quanto processo troppo lento. La soluzione esiste e sarebbe sufficiente la reale volontà politica per vagliare la miglior strategia per uscire da questa assurda situazione ormai decennale, scrive ancora De Riu. Siamo venuti a incontrare l'assessore regionale all'agricoltura per spiegargli che esistono in Sardegna 8 mila ettari di fertili terreni agricoli che non sono liberi di fare agricoltura, dove i giovani imprenditori agricoli non possono investire. Il problema sarà presto approfondito in un incontro ad Occa a Cagliari. Crediamo sia gravissimo il fatto che siano i cittadini a doversi spostare per incontrare le istituzioni regionali per cercare di risolvere le criticità del territorio. Purtroppo però ci rendiamo conto che ad Alghero ciò che per noi è di vitale importanza passa come sempre in secondo terzo piano, chiude De Riu. I prossimi 8 e 9 maggio, quindi di fatto domani è sabato, Alghero e Sassari ospiteranno un prestigioso convegno internazionale di catalanistica. Interverranno diversi studiosi catalani e italiani che relazioneranno sui rapporti letterari tra la Catalonia e l'Italia in epoca medievale e rinascimentale. Ma sentiamo di cosa si tratta e da chi è organizzata questa interessante due giorni. Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari in collaborazione con l'Istituzio della Slietras Catalanas, il Ceri, le Spai Luglie dell'Alghè, l'Aish e l'Ateneo Algares si fa promotore di un importante incontro internazionale nell'ambito della catalanistica. Le giornate dell'8 e del 9 maggio saranno dedicate ad incontri volti ad analizzare l'importanza della letteratura catalana e le connessioni stabilite nel corso dei secoli con quella italiana. Venerdì 8, Lola Badia, docente dell'Università de Barcelona e studiosa di fama internazionale, terrà una lezione magistrale sulla figura del filosofo catalano Ramon Luglie. La lezione è dedicata agli alunni del Dumas e a chiunque vorrà parteciparvi. Offrirà una panoramica sulla figura del dottor Illuminat. L'appuntamento è presso la Facoltà di Lingua e Letterature Straniere, Aula Lessing, alle ore 15. Sabato 9, invece, sarà la volta del convegno internazionale dal titolo Las Relaciones entre Catalunya e l'Italia e Las Epocas Medievales, il renaixentista. L'incontro si terrà a partire dalle 10, presso il Palazzo Serra di Alghero. Interverranno Pep Valsagliobre, dell'Università de Girona, Luca Dascia, Scuola Normale e Superiore di Pisa, Lola Badia, dell'Università de Barcelona e Gianpaolo Mele, dell'Università di Sassari-Dumas. Ora facciamo una piccola pausa per la pubblicità. A tra poco. Ben ritrovati in studio. Ieri sera, presso la sala della Fondazione Meta, si è svolto l'appuntamento conclusivo del corso di Algherese dell'Omnium Cultural. Per circa 5 mesi, oltre 45 alunni hanno voluto seguire le lezioni tenute da Carla Valentino che da oltre 15 anni è impegnata nell'attività dell'Associazione per la salvaguardia e la diffusione della lingua. Gli alunni hanno letto alcune poesie, favole della tradizione e hanno poi ricevuto il certificato di partecipazione. Sentiamo per ora proprio l'intervista realizzata con Carla Valentino. Carla Valentino, vostè è la mestra del corso di Algherese, della scuola di Algherese dell'Omnium Cultural dell'Algherese. A voi si parla della conclusione di questa avventura, perché sono i giovani e i non giovani che hanno partecipato in questo corso. Che cosa vuol dire? Buon Natale a tutti, è una gran soddisfazione che siamo arrivati alla fine di questo corso. È il secondo anno che facciamo un corso di Algherese, della variante Algherese, e lo facciamo partecipato di testi e poesie della tradizione Algherese e di autori Algherese. A questo è il tempo al precisare. È una bella soddisfazione perché il corso è per tutti. È stato un corso molto a tutti, non ha domandato pre-requisizioni a nessuno. Quindi stiamo nel minore spattato che è 12 anni, c'è gente che probabilmente non si è giunto allo 70, e tutti hanno potuto seguire il corso. Penso anche in maniera di valdenta. È un'iniziativa ampultante perché si appalla l'Algherese e si scrive anche? È ampultante perché si appalla, si appara a leggere, si appara un po' a scrivere, ma la cosa che si appalla è più ampultante è di una tona dignità della nostra lingua e sembra tanta spattata sia la volta, anche la famiglia, in maniera che alcune persone si appalla, si appalla, si appalla la nostra lingua e si appalla la nostra lingua e si appalla a sfilza, a snezza, a scompagnanza, a chi vuole. E adesso parliamo di musica, lo facciamo per riportare una bella notizia che riguarda Emanuele Trudu, un bambino algerese di 11 anni che lo scorso 25 aprile si è esibito sul prestigioso palco nazionale di Castrocaro per il Festival Vocine Nuove. Il piccolo cantante rapper è stato già protagonista della finalissima nazionale del Cantagiro 2014 tenutasi a Fiuggi lo scorso ottobre. Emanuele, che ha dimostrato grande talento e grinta sul palco, ha portato a Castrocaro il brano di Joker intitolato Il Doppio Senso. Nonostante la teneretta, Emanuele si è già esibito in varie manifestazioni canore accompagnato dal fratello Giuseppe e il prossimo 16 maggio sarà a Castrocaro per la finalissima. E da oggi su Catalan TV riparte la nuova stagione di Vivi Alghero, un programma di intrattenimento ideato da Roberto Gabrielli e condotto da Toni Corbia. Le puntate andranno in onda dalle 15.30 e replica alle 18, alle 21 e a mezzanotte. Ma sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina. Roberto Gabrielli e Toni Corbia qui a Catalan TV per presentare la nuova stagione di Vivi Alghero che da oggi andrà in onda sulla nostra emittente in diversi orari della giornata. Cominciamo con l'ideatore di Vivi Alghero, c'è Roberto Gabrielli. Che cos'è Vivi Alghero? Perché ancora non lo conosce. È un programma di intrattenimento, fatto a favore per la città insomma. Quello che volevamo noi era che Alghero venisse conosciuta su più fronti e l'unico mezzo a disposizione era quello di portarlo in video. Toni Corbia invece è il tuo ruolo in Vivi Alghero? Il mio ruolo è il presentatore, che è tutto un che dire, quindi mi ha costretto Roberto a fare il presentatore. Però gli ho chiesto solamente una cosa, che in ogni puntata ci fosse qualcosa che parlasse della disabilità. Cioè far vedere che un disabile può fare qualsiasi cosa, che non ha nessuna difficoltà nel fare le cose. Quindi anche in queste puntate ci sarà qualcosa, spero che lo guardiate. Gli orari sono dalle 15.30 alle 18, le 21 e a mezzanotte. Che cosa si devono aspettare i telespettatori per queste nuove puntate? Cose terrificanti. Vivi Alghero nasce per intrattenere. Quindi diciamo c'è la parte, non mi fa dire seria, perché sembra... C'è la parte diciamo dove si conosce la città, si vede quello che si può fare, quello che non si può fare. Poi c'è la parte dove noi ci si rilassa e diamo libero sfogo alle nostre, alle sue, alle sue, ai toni più pazze idee. Alle nostre idee, insomma ci lasciamo andare, lo scopo è farsi quattro risate, intrattenere le persone. Alghero mancava secondo me un programma di questo genere qua, insomma ci abbiamo provato, ci proviamo. Dunque il primo appuntamento è questo pomeriggio alle 15.30 con la nuova stagione di Vivi Alghero. Non ve lo perdete, fidatevi. Comunque noi non ci crediamo che Torrio Corbia è stato costretto. Ora una notizia di sport, l'Alghero Calcio diventa Cagliari Football Academy. L'affiliazione della vita ha un rapporto costante con la società Rosso Blu, dove formazione, confronto e crescita saranno i cardini di questo meraviglioso progetto dedicato agli atleti giallorossi per portare sempre più sardi a vestire la maglia del Cagliari, massima rappresentante del calcio isolano. Due gli obiettivi principali della sinergia tra Scuola Calcio Alghero e Cagliari Football Academy. Il primo è quello di fare il sistema, condividere le migliori metodologie di allenamento e favorire l'educazione sportiva. L'altro scoprire il talento, valorizzarlo, accompagnare il giovane calciatore in un percorso di crescita sportiva e umana che parte dalla sua società di origine. Il tutto attraverso anche la costante formazione da parte del Cagliari, dei tecnici che svolgono da sempre un ruolo fondamentale nello sviluppo psicofisico dei ragazzi. L'Alghero si legge nel comunicato della società giallorossa, è sempre più punto di riferimento nel calcio giovanile algherese. È infatti l'unica società presente con entrambe le categorie di settore giovanile, giovanissimi e allievi nei campionati regionali e regionali elite, con una scuola calcio che ad oggi conta più di 200 iscritti, con uno staff tecnico esperto e altamente qualificato. Con questa notizia si chiude le edizioni odierna del nostro telegiornale. Ora come sempre spazio alle precisioni del tempo per domani, grazie e arrivederci.